Marco Carlias Revisore �re Guillaume Revisore Marco Carlias Revisore Sono parte della generazione Z. È una generazione che, per quanto sia forte con le connessioni virtuali, non lo è così tanto con quelle sociali. È proprio questo che mi ha portata ad avvicinarmi alla fotografia. È nato tutto come un modo per riuscire a studiare le persone che mi circondano, per cercare di capire da bambina se le motivazioni che mi spingono ad affrontare la vita quotidiana siano quelle che spingono anche le altre persone ad affrontare la loro. Poi si cresce, era febbraio 2018, ho partecipato a Master of Photography, un programma televisivo di Skyarte e circondata da tutti questi fotografi adulti, affermati, professionisti, mi sono trovata a chiedermi, ma starò crescendo? Sarò all'altezza di questa situazione? E effettivamente crescere ci pone di fronte a possibilità infinite di conoscere persone, punti di vista differenti, ci pone di fronte a stimoli ogni giorno, anche troppi. Per cui il motivo iniziale per cui fotografavo è praticamente svanito. Posso conoscere le persone anche senza l'obiettivo. Proprio per questo motivo mi sono trovata ultimamente a chiedermi perché continui a fotografare, perché continui a prendere qualcuno da parte e guardarlo negli occhi, e guardarlo ancora e ancora. E' come se ciò non bastasse dopo alcuni minuti vestirlo, posizionarlo, dirigerlo. Quale sarà la risposta? Fermo. Fermi tutti. Un po' più a destra, un po' più a destra. Abbassa lo sguardo. Solleva il mento. Frontale. Fermo. Ok, guardami. Questa è una situazione particolare, ma è esattamente quello che succede ogni volta che fotografo. E che cos'è allora che cerco in quello sguardo? Quello che cerco è una situazione specifica, ma un po' sfuggente. Ricorda in qualche modo l'empatia e probabilmente per la maggior parte di voi è una sensazione scontata, che si prova quotidianamente. Ma quando sei timida e cresci nella campagna, non è così facile trovarsi un paio di occhi da guardare. E' un'occasione così rara che anche quando si trovano questi occhi, non è facile guardarli. E serve un filtro. Dalla prima volta in cui ho impugnato una macchina fotografica ho capito di aver trovato il mio filtro, la mia porta sulle persone. E se c'è tra voi anche soltanto una persona che non dà per scontata questa sensazione, che la deve ricercare ogni giorno, che si affatica nell'avvicinarsi alle persone, ecco, io parlo per quella persona. D'altronde, passiamo la maggior parte del nostro tempo in solitudine ed è naturale. Anzi, c'è qualcosa di speciale nel cercare il nostro spazio di solitudine, nell'affidarci soltanto ai nostri sensi, nel concederci di avere un punto di vista tutto nostro e approfittarne. D'altra parte, da sempre, la connessione più forte è quella che ci lega alle altre persone. La fotografia è proprio un modo per poterci ritrovare nelle persone di fronte a noi. È il mio modo per riuscire a condividere quell'intimità. E ho scoperto che questa sensazione è fortissima. La fotografia assume un po' il ruolo di una coperta di flanella. Quando la sera siamo sul divano, accoccolati, e sotto la coperta diventa immediatamente naturale comportarsi in un modo che non è naturale normalmente. Ci si avvicina, ci si accoccola. Ecco, la fotografia rende naturale guardarsi per più tempo di quanto non sarebbe naturale farlo nella vita quotidiana. Situazioni che normalmente ci metterebbero a disagio diventano perfettamente naturali, ci mettono a nostro agio. D'altra parte, pensate a una situazione di silenzio di 4 minuti, 5 minuti, 6 minuti. Diventa pesante. Con l'obiettivo, invece, diventa soltanto un'occasione per chiedersi, ma quindi anche tu sei un po' a disagio. Forte, capita anche a me. Ma anche tu ti stai sentendo un po' solo? Ti capita a volte? Cavolo, allora siamo simili. Ed è così che la fotografia diventa un modo per sentirsi un po' meno fuori luogo, un po' parte di qualcosa. Pensate a quella stranezza che camminando tra la gente sembra così evidente, è un po' un gufo sulla spalla, sembra sempre che tutti ti stiano guardando per quella cosa specifica. Ecco, nella fotografia, invece, diventa quello che ci rende unici, quello che ci rende interessanti. E vederlo attraverso un obiettivo diventa uno scambio di sensazioni. È una sensazione tonda, piena, che ti avvolge e probabilmente è dovuto anche al fatto che nella vita quotidiana queste stranezze cerchiamo di nasconderle, cerchiamo di tenerle per noi, di limarle un pochino. E nella fotografia non è necessario, non è necessario. Si diventa simili e ci si rende conto che le incertezze e anche le certezze non sono poi così uniche. Le provano anche le persone di fronte a noi. Ma, alla fine, che cos'è che mi spinge a mettere questa macchina fotografica nello zaino, dopo la lezione di finanza, e andare a creare immagini che fino a quel momento esistono soltanto nella mia mente? Il motivo è uno solo, è che questa sensazione mi ha cambiato la vita e credo che possa cambiarla a molte persone. È una sensazione di sentirsi uniti e sentirsi parte di una comunità, soltanto attraverso un paio di occhi. Il tempo praticamente si prolunga e tutto diventa più naturale, ci troviamo risvecchiati nella persona di fronte a noi. D'altronde, al giorno d'oggi, basta spegnere la sveglia e senza neanche alzare il culo dal letto, possiamo vedere il mondo attraverso mille occhi diversi. È il potere dei social. Ma il potere dei social è anche, una volta bloccato il telefono, ritrovarci da soli di fronte alla giornata che dobbiamo affrontare. Ma la fotografia, la fotografia quella vera, nasce per darci la possibilità di confrontarci, di studiarci, di guardarci negli occhi e rivederci nella persona di fronte a noi. Ed è per questo che diventa un'arma potentissima. Ed è la fotografia, ma potrebbe essere qualsiasi altro linguaggio. È il linguaggio più adatto a ognuno di noi. La fotografia, come ogni linguaggio, ci permette di comunicare in maniera molto più intensa e diretta. Diventa una sorta di arma. Diventa un'arma? Ma perché? Perché nel silenzio viene facile cercare di sdrammatizzare con una battuta, cercare di far pensare «No, io sono forte, io sto bene ora». Ma in realtà, attraverso uno sguardo, se soltanto lo lasciamo parlare, lo lasciamo evolvere, lasciamo che parli più chiaro delle parole, allora possiamo arrivare a capirci, a capirci davvero. Perché gli sguardi possono parlare molto chiaro, probabilmente più chiaro di quanto non stia facendo io in questi minuti. E lo sguardo può raccontarci che la solitudine può fare male, ma riuscire a stare soli insieme e a godersi quella connessione silenziosa è magia. Grazie.